Prima di tutto voglio ringraziarvi perché questo è il secondo contenuto della giornata, il primo l'ho dovuto far uscire ad un orario abbastanza scomodo e fuori dagli standard, cioè intorno alle 11, quindi un'ora prima in anticipo rispetto a quello che è l'abitudine, quindi ora di pranzo, eppure il video è stato visto, se non vistissimo, siete stati anche attivi nei commenti, avete contribuito a creare un argomento di discussione secondo me molto interessante sotto il video, dato che andavamo a toccare diversi punti, quindi grazie. Oggi invece parliamo di quella che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, vigilia di Juventus Inter, ovviamente domani poi andremo ad approfondire con alcuni dati e quelli che dovrebbero essere i giocatori scelti dall'allenatore per andare ad affrontare questa semifinale di Coppa Italia dal valore, secondo me, elevatissimo, come vi dicevo stamattina e come penso che abbia confermato anche Allegri con il mood con cui andava a dire certe cose, quindi secondo me Allegri l'ha inquadrata, l'ha battezzata, è stato molto bravo oggi nel comunicare e nel tenere i piedi per terra perché effettivamente anch'io sto notando che, vabbè, c'è ovviamente come sempre una netta divisione tra le due cose, però c'è una parte della tifoseria di Juventina che è continuamente insoddisfatta, che vede ancora una stagione senza miglioramenti rispetto alla prima parte e c'è un'altra parte della tifoseria che in questo momento è galvanizzata, che crede davvero, come dicevo stamattina, che si possa addirittura vincere lo scudetto, cosa che per me è semplicemente folle, che si possa facilmente passare questo turno di Coppa Italia, che si possa facilmente vincere l'Europa League. Sono contento che Allegri invece abbia richiamato l'attenzione e abbia dettato la parola chiave, perché ha pronunciato la parola chiave, che è equilibrio. L'equilibrio nei giudizi non deve veramente mai mancare. Andiamo un po' a sviscerare, andiamo a commentare quelle che sono state le parole del tecnico bianconero. È una competizione diversa, è una semifinale, ma è sempre Juventus-Inter. Serve creare i presupposti per il passaggio del turno. Loro sono forti e in questi momenti bisogna addrizzare le antenne. Gli elogi alla Juve possano perdere la cognizione dalla realtà. Domani giochiamo contro una squadra forte che viene a diverse sconfitte. Bisogna stare ancora più attenti. Sì, è una trappola. È una trappola perché è proprio in questi momenti qua in cui si riesca di buttare via tutto. È ovvio che secondo me il favore del pronostico ce l'ha la Juventus. Sia per il momento legato alle condizioni delle due squadre, sia perché si gioca in casa. Credo che la Juventus sia la favorita in questa semifinale. Esagero, voglio andare oltre. Io credo che la Juventus sia la favorita per la vittoria finale della Coppa Italia. È questo che mi spaventa. Noi siamo un po' abituati a fargli underdog ultimamente perché oggettivamente gli ultimi due anni e mezzo di Juventus non sono andati particolarmente bene. E quindi bisogna cercare di non gasarsi e non galvanizzarsi intanto perché non si è fatto niente. Niente. E ci sono stati degli obiettivi che non sono stati raggiunti come la qualificazione agli ottavi di Champions League o la possibilità di entrare effettivamente in l'orto a scudetto fino alla fine. Queste cose non vanno dimenticate. Sicuramente ora la Juventus ha la possibilità di concludere in maniera dignitosa la stagione senza mai dimenticarsi che ci sono state delle cose che in stagione non hanno funzionato. E come dice Allegri, non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni neanche adesso. Quindi cerchiamo di rimanere sempre concentrati su questa cosa qui perché se partiamo dal presupposto che loro sono in crisi, noi invece stiamo meglio e quindi allora loro sono morti, invece noi no, andiamo a casa. Andiamo a casa e facciamo anche delle figuracce. Chiesa a disposizione. L'unico controllo che ha fatto è stato in Austria. Il ginocchio è a posto, ha soltanto un'infiammazione tendinia, però domani a disposizione sarà in panchina. Buona notizia, bella notizia, mi fa piacere. Federico, dai, risolvici un Juventus Inter di Coppa Italia. Più che coppie di attacco siamo cinque in questo momento. Ken domenica è squalificato, ricorderete era diffidato, ha preso il giallo. Domani invece saremo in cinque e sarà importante avere tutti a disposizione. Anche perché domani non è una partita secca. Dura 180 minuti e più questo doppio confronto da Juventus Inter. Alessandro sta meglio, ha fatto allenamento, ma difficilmente sarà della partita. Attenzione, ancora Bremer, Danilo e Gatti. Perché poi, che cosa dice? Rugani sta bene, avremo cinque difensori. Bonucci invece da mercoledì sarà a disposizione. Quindi domani Bonucci non sarà della partita. Alessandro, Rugani, Danilo, Gatti e Bremer. Questi cinque centrali di difesa che andranno a ruotare. Il fatto che dice Rugani sta bene, mi fa pensare che Rugani possa avere la possibilità di partire dall'inizio al posto di Gatti. Vedremo. Pogba ha fatto ieri un buon allenamento parziale con la squadra. Da mercoledì farà lavori per migliorare la condizione fisica insieme al resto della squadra. Questa è una notizia, non me l'aspettavo. Speriamo che sia la volta buona. Questi sono quelli che insieme a Caio fino a mercoledì non saranno disponibili per la prima squadra. E poi da mercoledì invece si ricomincerà a lavorare anche con questi e non con Caio, che è ancora abbastanza indietro da quanto si capisce, nonostante sia passato tanto tempo. È stato un infortunio veramente brutto quello di Caio. La Juve è abituata a giocare ogni tre giorni e va fatto nel migliore dei modi una partita alla volta. Domani c'è l'Inter, poi andremo a preparare la partita di Roma con la Lazio. Giocare ogni tre giorni significa essere dentro gli obiettivi di campionato e coppe. Dovremmo essere bravi nel riempire anche maggio. Sì, ormai non abbiamo tanti giri. Abbiamo la possibilità soltanto di arrivare a maggio a giocarci la finale di due coppe. Una nazionale e una internazionale. Serie A, non voglio nemmeno più rientrare nel discorso, l'abbiamo già fatto mille volte. È una competizione che in questo momento il tifoso della Juve, secondo me anche l'allenatore della Juve, il giocatore della Juve, il dirigente della Juve, sente molto lontana e molto distante. Gli altri due invece bisogna veramente essere cattivi e dimostrare, dare dimostrazione. Io credo che davvero questa penalizzazione abbia dato un boost alla Juventus dal punto di vista emotivo, spirituale, di voglia. Proprio per dimostrare al mondo che questa Juventus, secondo me, adesso ha trovato delle energie che prima non aveva. Proprio per via di questa roba qui. Tutti ci auspichiamo di fare domani una grande partita. Inzaghi sta facendo un grande lavoro all'Inter. Dopo la Juve credo che sia la Lazio comunque quella che ha conquistato più trofei negli ultimi anni. Poi dice, credo, non ne sono sicuro. L'Inter è una squadra forte, non sta attraversando un periodo buono dal punto di vista dei risultati. Quindi affrontarla è pericoloso. La partita sarà molto complicata, più di quella di Milano. Sì, sono d'accordo, mi fa piacere che Allegri dica queste cose. Mi fa piacere. È giusto tenere la concentrazione alta. È giusto non fare gasare, galvanizzare, ambiente, squadra. Se poi sarà, si passerà. Però bisogna veramente affrontarla con l'umiltà, senza pensare di essere superiore a quegli altri. Perché non possiamo permettercelo. Semplicemente non possiamo permettercelo di pensare a una roba del genere. Non siamo una squadra fenomenale. Siamo una squadra normale che è diventata normale. Che sta facendo una stagione normale, anche se la stagione non è normale. Quindi davvero dobbiamo cercare di raccogliere tutte le nostre energie e non sottovalutare l'Inter. Perché insieme alla Juve è la miglior rosa per quella che è la costruzione in Italia, per quanto mi riguarda. Ci sta avere opinioni diversi su una Juve e Inter, sulle due squadre, con la rosa migliore in Italia. Poi dice Chiuderemo già la qualificazione domani. Il pericolo numero uno per noi stessi, siamo noi. Il pericolo legato ai risultati generati nelle ultime partite. Dovremmo essere pronti e riposati. Domani sera affrontare una squadra molto forte. Da scolpire nella pietra. Da ricordarsi ogni singolo minuto. Durante il riscaldamento. Durante la preparazione. Durante il trasporto. Durante la partita. Non sopravvalutiamoci. Non è che sia l'Inter. No, 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 proprio no. Sarebbe l'errore più grande possibile. Gli episodi non complicheranno la gara, dice Allegri. Anche l'anno scorso, in campionato qui e in finale di Coppa Italia, ci sono stati gli episodi. E mi fa piacere, mi fa piacere che tiri fuori queste cose. Perché se no passiamo sempre noi a fare la parte dei bacucchi. Domani magari ce ne saranno, spero di no. Spero che Massa, che un ottimo arbitro, sia in grado di gestire la partita come è stato quello di Milano. Poi gli dice, non mi ricordo il nome dell'arbitro. Poi gli viene in mente, gli dice, chiffi. Non so se è stata una gag oppure no. A me fa piacere che nemmeno si ricordi il nome dell'arbitro, sinceramente. Io stesso non me lo ricordavo. Io, chiaramente, calcio il discorso legato agli arbitri. Penso di essere uno dei pochi, se non pochissimi. Queste cose ci guarda poco. Non so se è stata una gag quella di Allegri oppure no. Nel caso è stata preparata bene. Gli arbitri sono bravi, non dobbiamo avere timore. Noi dobbiamo fare la prestazione. Loro sono una squadra pericolosa. Allegri cerca di buttare l'attenzione, la concentrazione in pasto ai propri calciatori e in pasto al proprio pubblico. Non è che se l'Inter in questo momento... No. No. L'Inter è, sarà... E domani sera sicuramente sarà una squadra pericolosa. Da affrontare con rispetto. Ma rispetto non significa paura. Assolutamente no. Perché siamo in grado di fare la nostra partita, siamo in grado di batterli e quest'anno l'abbiamo già visto. Eiling, momentaneamente, è il vice Kostic. Ma lì ci può giocare anche De Sciglio. Per me Eiling ha le qualità per farla a mezzala, ma non l'ho ancora provato. Ora, io non credo, non credo che Eiling possa farla a mezzala. Eiling ha un passo da ala pura, da esterno. Se si vuole provare, che si provi. Per me non può fare nemmeno il terzino. Per me Eiling è un esterno. È un esterno offensivo. Il fatto che sia il vice Kostic, ma ci può giocare anche De Sciglio, abbiamo visto che ci gioca De Sciglio. E questo è un dispiacere, perché Eiling, secondo me, ha delle buonissime qualità e può essere un giocatore importante sul lungo. Non è una finale anticipata. Anzi, speriamo di arrivare in finale. Faremo tutto il possibile. Nel calcio serve equilibrio di pensiero. Eccolo qua. Lo tira fuori Max Allegri. Oggi la Juve è così e l'Inter è colà. Ma tutto può cambiare al giro di due giorni. Basti vedere Napoli e Milan. Tutti si aspettavano un Milan distrutto, un Napoli stellare. L'equilibrio deve regnare nel nostro ambiente. Soprattutto dentro la continassa, dice lui. Ed è assolutamente vero. Loro internamente devono cercare di mantenere un equilibrio ancora maggiore. Detesto, parola forte, chi si va a prendere la faccia di entusiasmi e di chi invece va in depressione. Nessun risultato ci deve spostare a livello mentale. Allora, sì e no. Sì e no. Perché i risultati di inizio stagione dovevano mandarti in depressione. E dovevano spostarti a livello mentale. Ma nel senso buono. Farti capire che quella roba lì non andava bene. Come adesso, questi risultati che stai ottenendo anche a fronte di partite, non all'altezza magari del bottino pieno, non ti devono gasare, galvanizzare. Non è che se vinci in Serie A allora significa che... No, no. Perché poi sai che quando vai a fare delle competizioni differenti da quello che è un singolo campionato, una partita che ti va a vincere tre punti, rischi di fare delle brutte figure. Che sia una competizione europea, quindi internazionale, che sia anche una competizione interna. Perché la Juventus e l'Inter hanno lo stesso grado di probabilità di andare in finale. Non c'entra niente la situazione, non c'entra niente le ultime partite, non c'entra niente la classe... Queste cose non c'entrano niente. Le due partite precedenti non c'entrano niente. Così come il Napoli e il Milan in Champions. Non è che se il Napoli è avanti in Serie A allora è scontato che no. Sono due partite secche, è una competizione differente. Sono cose che non c'entrano nulla. E fa bene Allegri a ribadirle. Poi nessun risultato c'è a spostare a livello mentale, sì e no. Come dicevo prima. Perché a inizio anno abbiamo avuto dei risultati, dei risultati e delle prestazioni che gridavano aiuto e doveva per forza di cose farci accendere un campanello, un allarme. Quando dico le formazioni gli altri mi prendono sempre in giro perché sbaglio i nomi degli avversari. La nostra formazione invece la sbaglio perché metto fuori ruolo i giocatori. Qua c'è stato un momento di risata generale perché Allegri dice mi è tornato in mente il nome dell'arbitro era Chiffi ma io con la memoria faccio fatica perché... E poi la frase delle formazioni. Ripeto, non so se è stata una gag. È stato molto divertente il momento dico la verità mi ha strappato un sorriso e finalmente torno a sorridere un attimino anche ascoltando le conferenze stampa. C'è stato un periodo in cui le conferenze stampa erano decisamente pesanti per la situazione della Juventus e anche per come Allegri aveva scelto di comunicare quindi in maniera molto a volte anche cattiva, rude. C'erano state delle conferenze dove veramente non mi era piaciuto l'atteggiamento con cui si andava a mettere forse al di sopra di tante posizioni. Adesso c'è un Allegri più cauto un Allegri che ha capito che siamo in un momento delicato della stagione e in un momento delicato per la Juve e che ha saputo sdrammatizzare e ripeto, non so se volontario o meno a me viene a pensare che sia stato preparato apposta per cercare di dare questo taglio ironico alla conferenza stampa in questo momento qui in cui c'è anche bisogno di non essere solo preoccupati tesi, cupi ma anche ricordarsi che il calcio è un gioco. Ognuno di noi avrà poi la propria chiave di lettura a seconda di quello che è stata la percezione ascoltando la conferenza. Locatelli è cresciuto molto anche sotto il punto di vista della velocità di distribuzione del gioco. Questa squadra attenzione che forse questa è la frase più importante stamattina vi parlavo di Scesni ma finalmente l'ha detto anche Allegri che mi sembrava invece molto soddisfatto sabato sera quando noi non eravamo questa squadra non ha fatto una grande partita dal punto di vista tecnico con il Verona ma ha messo a cuore voglia di portare a casa il risultato. Sono d'accordo la prestazione non è stata ottima anzi è stata decisamente una brutta gara. Il cuore voglia di portare a casa il risultato? Nì io l'ho visto decisamente di più in altre partite se però poi mi dici Locatelli sotto questo aspetto ha le qualità le caratteristiche per giocare nella Juventus se allora ti dico assolutamente sì perché Locatelli è stato il migliore in campo l'altro giorno e Locatelli è la reincarnazione di queste caratteristiche cuore voglia grinta attaccamento alla maglia assolutamente sì e Locatelli sotto questo punto di vista non so se è il migliore perché poi ci sono tanti altri il primo che mi viene in mente è anche Danilo ma sicuramente uno di quelli che ci tiene di più alla causa quindi non sono d'accordissimo sul fatto che l'altra sera sia stato quel tipo di partita lì ma ce ne sono state tante post mondiale in cui la Juve mi ha dato veramente questa dimostrazione e la prossima che voglio vedere è già quella di domani sera contro l'Inter e la prossima che voglio vedere e la prossima che voglio vedere